Sei sicuro di parlare in modo spontaneo? Ma del resto come si fa a capire se una persona è spontanea, se noi siamo spontanei? Queste sono domande che io mi sono fatto più volte. Prima di tutto dobbiamo capirci bene su che cos'è la spontaneità. Allora noi distinguiamo spontaneità, non spontaneità. Allora noi pensiamo che la spontaneità consista nel fare le cose in modo naturale. E va bene, questo è uno dei significati della parola. Attenzione che nella vulgata spontaneo acquisisce un significato ulteriore, cioè talmente spontaneo da essere naif, cioè praticamente come un bambino. Se noi pensiamo all'immagine del massimo della spontaneità, ecco il bimbo, la bimba. In realtà questa parola viene dal latino sponte, che significa libera volontà. Questo significa fare le cose secondo la nostra libera volontà. E tuttavia qualcuno potrebbe anche dirci, ma tu non appari spontaneo, non sei spontaneo. Ha ragione. Vediamo. La spontaneità. Ah, se ancora non mi conosci, io sono Stefano Todeschi e questo è il mio canale di Public Speaking Pratico. Io lavoro con manager, imprenditori, professionisti e voglio che parlino con spontaneità. E oggi capiamo bene che cosa significa questo. Ora, quando noi non siamo spontanei? Non siamo spontanei quando non sappiamo bene che cosa vogliamo. Allora assumiamo la forma di un'altra persona, cioè sentiamo una certa incertezza, una certa incertezza interessante e quindi percepiamo un limite. E quindi cerchiamo di imitare qualcuno che secondo noi ha autorevolezza nel suo modo di porsi, di parlare, di comunicare. Chi ci piace, in cui ci riconosciamo. Sentiamo, cioè, quell'energia che vorremmo avere noi. Ma attenzione, un conto è la forma. Un conto è che questa forma sia ben radicata sul contenuto, e cioè sulla nostra volontà. Cercare di imitare qualcuno fa parte della evoluzione della persona. Fin da quando siamo bambini abbiamo cercato di imitare gli adulti per imparare a diventare esseri umani, cioè sempre più umani, come si dice in psicopedagogia. Ma anche gli artisti lo hanno sempre fatto. Per esempio Totò aveva come maestro Gustavo De Marco, Raffaello aveva come maestro il Perugino, Giotto Cimabue. Ma anche nella scienza ci sono persone che hanno i loro modelli. Uno fra tutti, per esempio, che mi viene in mente è Jung, che aveva come riferimento, come maestro, Freud. Ma cosa è successo? Ad un certo punto tutti questi artisti o uomini di scienza si sono smarcati dal modello. La prima cosa che dobbiamo fare, allora, per raggiungere la nostra spontaneità è conoscere il modello, quando lo stiamo imitando, capire che cosa ci piace e capire anche che cosa non ci piace. A questo punto, a furia di provare e provare, scegliamo e teniamo quello che ci piace. È da lì che comincia la nostra evoluzione. Allora potremmo chiederci qual è la forma giusta? Cioè qual è quella forma espressiva che va bene per noi personalmente? Prima di tutto, per essere spontanei, dobbiamo rispettare allora la nostra volontà. Ricordiamoci che appunto viene da sponte libera volontà. Perciò chiediamoci, ma io sto davvero esprimendomi? Cioè sto davvero condividendo contenuti, idee, messaggi che fanno parte di me, che sono miei e in cui mi sento realizzato o realizzata? E questo è il primo passaggio. A questo punto curiamo la forma che vada a sostenere questi contenuti in cui io credo. E allora ecco che scelgo le parole. Ecco che scelgo anche la forma, la costruzione. Scelgo la mia stessa espressività in funzione quindi della mia volontà e quindi della mia natura. Tutto questo mi porta anche a conoscere ancora più in profondità le mie idee e ciò in cui io credo. E allora qualcuno potrebbe dirmi Sì, va bene Stefano, ma tutte queste scelte alla fine sono un lavoro costruito e quindi c'è una sorta di finzione in tutto ciò. Sì, 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 c'è una sorta di finzione. Ma scusate, scusa, eh. Il punto è che quando io parlo ad un bambino e spiego un concetto che per lui è nuovo, che cosa faccio? Sceggo le parole in modo tale che possa comprendermi. Le parole devono essere alla sua portata. Quando poi avrà imparato qualche nuova parola ecco che la potremo utilizzare con quel bambino o con quella bambina. Ma lo stesso concetto se io lo spiego per esempio ad un mio collega ed è un concetto professionale utilizzerò altre parole. Ciò significa che se posso scegliere i vocaboli e questa è una forma di finzione allora posso scegliere anche l'espressività. Ciò che dobbiamo ricordarci è che questa finzione non diventa falsità tutt'altro. L'importante è che rispettiamo la nostra volontà cioè rispettiamo la nostra natura di esseri umani che pensano e che hanno opinioni. Ecco perché alla fin fine siamo noi con il rispetto della nostra volontà e la consapevolezza quindi della nostra capacità espressiva che risultiamo spontanei. Quindi in definitiva chi è che può dirti se sei spontaneo o meno? Se sei spontanea o meno? Beh ci sono due persone che te lo possono dire. La prima è una persona che ti conosce davvero intimamente quindi sa che cosa pensi sa qual è la tua volontà sa quali sono i tuoi valori e ciò in cui credi. Questa persona allora può percepire che quando tu stai spiegando stai raccontando probabilmente non ci stai credendo ma perché ti conosce e l'altra persona ovviamente a questo punto penso che ti sia chiara l'altra persona che ti conosce probabilmente ancora di più sei te stesso o te stessa e quindi sai dire quando stai spiegando qualcosa raccontando qualcosa se senti un certo stridore cioè qualcosa che non va quindi qualcosa che ti sembra non lo so fuori luogo fuori e allora ti tocca di fingere ti tocca di creare qualcosa che non ti appartiene non c'entra niente con la tua naturalezza e quindi con la tua volontà questo fa la differenza quindi il rispetto della nostra naturalezza intesa come volontà bene se vuoi continuare a seguire i miei video io ti suggerisco di iscriverti al canale ma proprio se vuoi non sentiti costretto costretta poi potresti anche entrare nel mio canale telegram lì ci sono degli audio che vanno a rinforzare i contenuti dei video e poi c'è anche qualche anteprima ah infine è uscita la nuova newsletter ti lascio il link qua sotto di tutti questi riferimenti a presto ciao ciao